Sessantesimo posto nella classifica generale, primi tra gli equipaggi italiani, si è conclusa così l'impresa alla Dakar 2022 in Arabia Saudita dei fratelli aquilani Silvio e Tito Totani, 8.000 km e 12 tappe durissime. L'impresa degli imprenditori aquilani, raccontata in conferenza stampa, è stata sostenuta dall'assessorato allo sport della regione Abruzzo ed è stato un ritorno in grande stile alla più grande gara automobilistica a 10 anni dall'ultima volta. La gara, iniziata il 1 gennaio e terminata dopo ben 14 giorni, ha visto questo eccellente risultato degli aquilani frutto di esperienze e abilità, caratteristiche che gli hanno permesso di superare le difficoltà del percorso che ha attraversato il deserto della penisola arabica. La vettura usata, una Nissan Patrol, si è ben comportata nonostante qualche imprevisto e il super lavoro dei meccanici del team, grazie anche a loro si è riusciti a tagliare il traguardo. Con 10 tappe concluse su 12, il risultato è stato centrato anche grazie a una grande maturità strategica dei due fratelli che avevano come obiettivo il taglio del traguardo dell'ultimo giorno a Jedda. Siamo riusciti a portare a termine quello che era la nostra previsione, certo ci ha voluto anche un po' di savoir-faire e un po' di fortuna, comunque ce l'abbiamo fatta. Questo credo che era il massimo che potevamo fare con i mezzi a disposizione, quindi è andato tutto abbastanza bene. È stata una Dakar molto difficile, complicata anche dal punto di vista climatico. Silvio, un grandissimo lavoro dei meccanici, qualche imprevisto. Qual è stata la difficoltà più grande in questo percorso durato 14 giorni? Sicuramente la prima tappa dove si siamo trovati con il tramonto che è arrivato prestissimo, eravamo su delle dune abbastanza impegnative. Eravamo con dei pneumatici che ci avevano consigliato il fornitore, che però si sono rilevati poco adatti alla sabbia ali araba, erano molto robusti, ma erano poco utili per affrontare le dune. E soprattutto con poca luce dei nostri fari, che abbiamo organizzato con delle barre a led o meno, ma onestamente affrontare le dune di notte ci serve più luce. Infatti poi nei giorni successivi siamo riusciti a aumentare la luminosità della nostra macchina e passare le dune indenni anche di notte. Tanto il sostegno ricevuto da conterranei abruzzesi e da fan di tutto il mondo è un sostegno fondamentale da parte del team di Motor Tecnica, che ha accompagnato i due fratelli lungo la gara con i suoi infaticabili meccanici. La regione, alla presenza anche del sindaco Perluigi Biondi, ha voluto omaggiare Silvio e Tito Totani di due coppe, tenendo come regalo invece loro le due maglie utilizzate durante la gara. Una grandissima soddisfazione il Made in Italy, il Made in Abruzzi, in questo caso anche il Made in L'Aquila, ha riscosso un successo grandissimo a livello internazionale, un'avventura che nasce dall'imprenditoria locale, un'imprenditoria fatta di sacrifici, fatta di passione, che è sfociata adesso nella grande manifestazione sportiva della Dakar. Grazie. 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 Grazie.